A Diva FM, hashtag LegalFoice22, in studio l'avvocato Fulvia Foice. Allora, finalmente, posso dire finalmente, le vacanze natalizie sono passate, è arrivato il nuovo anno, siamo già a gennaio inoltrato, anzi di un bel po', siamo quasi a febbraio, e il buongiorno in questo caso va alla nostra rubrica in compagnia dell'avvocato Fulvia Foice. Caro Tiziano, ciao, ben trovato, sto bene? Io senti che sono un po' raffreddato, anche se la cosa sembra passata. Questi sono i residui del raffreddore. Sono i residui, non del panettone, ma del raffreddore. Beh, io sto bene, sono contenta di essere tornata, fra qualche giorno è il mio compleanno, per cui è un altro compleanno festeggiato facendo la nostra bellissima rubrica. Io posso dire che è appena passato. È vero, è vero, è vero, è vero, anzi, tantissimi auguri anche se ritardo, per cui è un grande piacere essere qui per un 2019, dove tratteremo ancora tantissimi argomenti avente natura legale o comunque sociale, giuridica. E magari forniremo ai nostri radioscultatori anche dei consigli utili, perché il nostro scopo è quello di fare informazione, perché l'informazione rende liberi di scegliere come e se tutelare i propri diritti. Bene, allora 0426 63 28 80, la casella mail radio diva chiocciola radio diva punto it, la nostra pagina Facebook, e siamo pronti per partire per questa prima puntata dell'anno con la rubrica Hashtag Legal Voice 22, dove parleremo oggi di stalking condominiale. Allora eccoci qua per la nostra rubrica del sabato, perché insomma da un po' di tempo siamo passati al sabato mattina, l'orario è sempre quello, dalle 10 alle 11. Oggi abbiamo detto che parlerai di stalking condominiale. Cosa significa? Cioè in quali casi si... Crea un po' di confusione, è vero? Abbiamo sempre parlato di stalking o atti persecutori posti in essere da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, magari legati da una relazione sentimentale, perché era un po' questo di cui avevamo trattato nell'altra rubrica. Oggi parliamo di stalking condominiale perché? Perché i casi che si verificano riguardano anche i rapporti tra vicini di casa e soprattutto a livello di condominio e quindi da qui la Cassazione comunque ha individuato questo termine stalking condominiale proprio per individuale. Ma che cos'è? È quel tipo di atti persecutori, ecco quel termine che ci riporta... Atti persecutori. Sì, sì, assolutamente, che sono posti in essere sempre da un soggetto nei confronti dei propri vicini di casa, che sono atti talmente molesti da generare nei confronti della vittima o delle vittime uno stato d'ansia, ecco ti ricordi lo stato d'ansia degli altri persecutori, da indurli a mutare le proprie abitudini di vita, ci ricordiamo sempre quella della fermata dell'auto, a tenere per sé, a temere per se stessi o per i propri familiari, quindi anche molesti o minacci. Quindi è un grande disagio. Un grande disagio perché magari si arriva persino a temere il peggio o comunque di essere aggrediti sul pianerottolo o magari... Dei malanni all'auto. Alla porta d'entrata, certo, assolutamente. Il condominio è complesso nel quale vive una moltitudine di persone perché ovviamente sappiamo che il condominio è costituito da immobili formati da due o più unità, dice la legge, rappresenta sicuramente un terreno molto fertile per il sorgere di rancori, rabbie, le briciole. I confini delle cose sono molto sottili, fastidi, ma hai messo il panno fuori, mi ha bagnato i fiori. Sì, hai spazzato sul tuo terrazzino con l'intento di mandarmi giù le briciole sul mio terrazzino che poi sono entrati in casa. Sì, che poi c'erano anche le coperte messe ancora bagnate. Ah certo, quindi incomprensioni, intolleranze, rancori che poi possono, come dicevi tu, trascendere in condotte che assumono rilevanza penale. Insomma, non vi è mai capitato? Non avete nessuno che vi ha raccontato episodi con il proprio vicino di casa? Penso che ognuno, se non capitato direttamente, ma almeno l'abbia sentito raccontare da qualcuno. Se poi pensiamo, Tiziano, dove avvengono queste condotte, comprendiamo anche l'importanza della carica offensiva delle stesse. Perché? Perché si riverberano sul senso di libertà, di serenità e tranquillità che è collegata al concetto di casa e di abitazione. Cioè noi quando entriamo in casa vogliamo lasciare fuori tutti i problemi del mondo. Diventa il nostro mondo, dove ci sentiamo protetti, tranquilli. Però nel momento in cui ci attaccano proprio su questa sfera, comprendete che al di là della gravità vera e propria, dal punto di vista oggettivo della condotta posta in essere, dal nostro vicino di casa, comunque noi la avvertiamo in maniera sicuramente maggiore. Va a minare quella sensazione prima che di tranquillità e di benessere. Ti senti toccato nel tuo intimo. È come quando vengono i ladri in casa. Esatto. Poi magari possono portare via niente, però quel senso di paura, di ansia c'è. E infatti, quando si verificano queste condotte, cosa provocano? Provocano ansia, provocano stress e provano sicuramente delle alterazioni delle nostre abitudini di vita in modo tale da limitare il rischio di essere molestati o miniciati dai nostri vicini di casa. Ma ne parliamo fra un po'. Stiamo parlando di rogne, condominali, stalking. Stalking, condominali, atti persecutori nel condominio. Sì, atti persecutori nel condominio. Queste strane cose che magari, come dicevi prima, non sono proprio degli atti veri e propri, ma cominciano a far sì che uno non si senta più tanto tranquillo nella propria abitazione. Sì, ovviamente per assumere rilevanza penale si parte con intolleranze, comportamenti dispettosi, per poi arrivare a qualcosa magari di molto più serio. Certo, certo. Quindi quello che assume rilevanza non è tanto… Abbiamo sentito dei casi estremi anche per questo. Vabbè, è caso di erba, no? C'era… Oppure potrebbe esserci… Ma ecco, una cosa che voglio chiarire subito, Gaudiziano, è che quando io parlo di stalking condominiale non è che per forza dobbiamo vivere in un condominio. Lo stalking ci può essere anche tra vicini di casa, ma magari familiare, oppure comunque… Anche casa singola, no? Ma sì, certo. Però hai un confine magari in comune o comunque uno parcheggia sempre davanti al tuo portone, che ne so. Beh, no, adesso… Adesso io sto… Ti stai largando un po' troppo. Ti stai largando un po' troppo. Vabbè, mi chiudo in casa mia, dai. Ecco, chiuditi in casa tua. Ma domandiamoci, ma c'è una norma che prevede, dal punto di vista penale, una responsabilità in caso di atti persecutori condominali? Beh, si tratta innanzitutto, devo dirvi, di una tipologia di molestia che non è prevista, non è punita da una specifica norma del nostro codice penale perché rientra anch'essa invece nella norma del 612 bis di cui abbiamo avuto occasione diverse volte di parlare, cioè atti persecutori. Quindi all'interno della fattispecie atti persecutori ci sono anche gli atti persecutori in ambito cosiddetti condominali. Ma questo tipo di molestie sono state poste all'attenzione dei giudici di merito e anche della Corte di Cassazione e hanno avuto una fortissima risonanza dal punto di vista mediatico, il caso di Erba, ma tantissime. All'epoca non c'era ancora la previsione degli atti persecutori, probabilmente. E quindi, in conclusione, non c'è una norma che me la va a ricomprendere, a prevedere, ma è una, posso dirvi, figura di creazione giurisprudenziale proprio per rispondere all'esigenza sociale e quindi, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, è importante che la legge o la tutela venga adeguata alle esigenze sociali che si vive in un determinato momento storico. Questo, infatti, è avvenuto. Ne parliamo fra un po'. Benissimo. Stalking condominiale è l'argomento di quest'oggi, ma mi parlavi del riconoscimento giuridico, in qualche modo, di questa cosa. C'è tanto tempo da quanto... Guarda, io ti posso dire che, come avevamo riferito poc'anzi, prima dell'interruzione pubblicitaria, che è una figura di creazione giurisprudenziale e che viene ricompresi, le molestie, eccetera, vengono ricompresi negli atti persecutori del 612 bis. Ma la prima sentenza, ecco, magari forse per risponderti, in maniera più precisa, la prima sentenza della Corte di Cassazione che ha esteso, ufficialmente esteso, attenzione, l'applicabilità della norma del 612 bis, quindi atti persecutori, al contesto condominiale, è stata la 20.895 del 2011, quindi non tantissimi anni fa. Che ha riguardato cosa? Adesso vi cito proprio il caso. Il caso di un condominio che aveva una sindrome maniacale, ci sono anche queste persone, che va posto in essere una serie di molestie nei confronti di alcune donne abitanti nell'edificio, senza apparente connessione logica tra detti atti, se non per il fatto che le vittime erano, appunto, donne residenti nello stabile. La grande novità, carodiziano, della sentenza sta proprio nel fatto che per la prima volta la Suprema Corte ha superato la lettura molto stretta del 612 bis, perché era molto così chiusa in se stessa questa norma, e secondo cui le condotte persecutorie dovrebbero essere indirizzate solo verso un solo soggetto, ma in questo caso c'era un soggetto, il maniaco, che le poneva in essere nei confronti di più donne, e quindi dice, ma caspita, allora non ci sono più letti persecutori, ma com'è questa cosa? In realtà la Cassazione interviene e dice, no, attenzione, attenzione, rientra nella fattispecie 612, ancorché la condotta è stata posta in essere nei confronti di più soggetti. Ravvisando la fattispecie, quindi, di Stolchi, anche nell'ipotesi in cui le condotte erano state perpetrate nei confronti di più soggetti, quindi ai loro danni, perché ha considerato come unica la violazione della norma. Cioè, mi sono spiegata, è importante questo, è molto interessante. Peraltro, caro Tiziano, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il reato può essere configurato anche a danno di soggetti non direttamente colpiti dagli atti persecutori. Ah, ma cosa vuol dire questa cosa? È un altro punto di vista che può essere interessante quanto è utile i nostri radioscutoratori. Perché? Abbiamo ben detto, può essere anche a danno di soggetti non direttamente colpiti dagli atti persecutori, ma che hanno comunque subito gli effetti negativi delle condotte posti in essere da un soggetto nei confronti di altre vittime. Nel caso concreto, che è poc'anzi richiamato, la Corte ha rilevato che è ineludibile l'implicazione che l'offesa recata ad una persona per la sua appartenenza ad un gene è turbida per sé ogni altra che faccia parte dello stesso gene, concludendo che se la condotta è retterata indiscriminatamente contro tal'altra perché vive nello stesso luogo privato, si deve esserne per ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genere è l'evidenza e turbamento in entrambi. Vi ho letto l'estratto della sentenza, perché magari se dopo lo vogliono comunque riascoltare, è proprio tratto della sentenza che vi ho detto. Ha quindi confermato la condanna dell'imputato ai sensi del 112 bis e quindi atti persecutori per il reato, per questo rato, ai danni del genere femminile abitante nello stabile. Perché? Perché comunque ha ingenerato una paura. E quindi... Se questo ce l'ha su con una donna, cioè con le donne, ce l'ha su con tutte le donne che habitano lì. Certo, assolutamente. Allora, una è persona affesa, l'altra persona danneggiata. Cioè mi cambia la cosa. E quindi in quanto anche le donne non direttamente colpite dalle condotte moleste del maniaco, hanno preso da avere una grande paura e un forte timore di imbattersi nello stalk all'interno del condominio. Quindi comprendete che... Perché potenzialmente sono vittime anche loro. Sì, la loro vita è cambiata, la loro qualità di vita è cambiata, sì. Perché avendo subito altre donne, delle molestie da parte di questo soggetto, beh, perché loro no? Loro potenzialmente potevano entrare delle vittime e si sentivano vittime e quindi reagivano di conseguenza. Ma ci sentiamo fra un po'. Parliamo di stalking condominiale oggi, quindi di atti persecutori, previsti e puniti da 612 bis del codice penale, posti in essere da un soggetto anche nei confronti di più soggetti. Figura giurisprudenziale che, come dicevo prima, anche nell'esempio di cui abbiamo discusso, ha portato alla condanna di un signore il quale aveva posto in essere una serie di moleste nei confronti di più donne all'interno stesso stabile ed era stato condannato anche per le conseguenze negative che avevano subito le altre donne, ancorché non molestate, che vivevano. Quindi non essendo ancora comunque molestate, però la paura era quella, quindi uno vive già nell'ansia e nel terrore. Eh sì, c'è la prossima, sono io. Questa sentenza, caro Tiziano, ha sicuramente fatto anche da apripista a molte altre sentenze nelle quali in buona sostanza viene sempre condannato a chi pone in essere nei confronti degli altri condomini un comportamento esasperante al punto da costringere a mutare le proprie abitudini di vita e a vivere in un perdurante stato di ansia. Quindi, voglio dire, non è che si tratta, a me è capitata una persona che dice avvocato, quello là mi butta sempre le briccele, io c'ho l'ansia, c'ho lo sesso. Eh no, dai, andiamo un attimo a discutere di cosa si tratta. Non tutto rientra, vabbè che è una categoria che è stata ampliata, ma non tutto rientra in questo. Siamo ancora nel dispetto. Siamo nel dispetto, poi logico, magari lo si può diffidare. Ad esempio, è stato condannato chi ha posto in essere atti persecutori nei confronti del fratello abitante nello stesso edificio chi con le proprie condotte assillanti aveva sperato un vicino di casa al punto di indurlo, assumere tranquillanti e assentarsi dal lavoro. Assillanti, perduranti, non una cosa occasionale. Di recente vi posso dire che con l'assenza del 2018 la Corte di Cassazione ha configurato la fattispecie di reato persino in danno degli abitanti di un intero quartiere. È interessante questa cosa. I quali erano stati costretti a cambiare le proprie abitudini di vita e i loro rapporti all'interno del quartiere medeso in quanto gli abitanti erano stati vittime dell'invio corposo e ripetuto di lettere anonime dal contenuto fortemente minatorio ed offensivo e contenente anche riferimenti personali ai residenti. È incredibile una sentenza di questo tipo è particolarmente interessante. Quanto alla giusprudenza esempio del Tribunale di Pado del 2013 ha condannato per reato di atti persecutori il condomino che con condotte ritterate aveva molestato i propri vicini di casa anche minorenni procurando a loro un grave stato d'ansia e tali da indurle necessariamente a cambiare le proprie abitudini di vita ad esempio modificando i percorsi per tornare a casa controllando i tempi di entrata e uscita dello stalker da casa per evitare di incontrarlo controllando che non fosse presente nelle parti comuni dell'edificio quindi tu cambi le abitudini di vita e quando le cambi quando vivi ansia e quando hai l'ansia o sei pazzo o quando qualcuno pone in essere delle condotte vessatorie ripetute nei tuoi confronti ancora posso dirvi che il tribunale di Monza sempre nel 2018 con una sentenza ha condannato un soggetto colpevole di atti persecutori e danni di due donne madre e figlia che abitavano nella stessa scala condominiale le condotte caro Tiziano erano consistite tra le altre nel danneggiare la seratura delle abitazioni che era un po' quello che ci dicevamo prima nello staccare ripetutamente la corrente elettrica delle loro case nell'impedire loro di utilizzare l'ascensore nell'offenderle fortemente sino a simulare l'investimento con l'auto di una delle due insomma comprendete lo stress che uno è abbastanza pesantino in origine queste condotte avevano colpito anche altri condomini per poi limitarsi solo le due donne perché magari le aveva viste più deboli chissà poi la psicologia di queste persone è quasi incomprensibile ovviamente queste condotte avevano provocato un perdurante stato di ansia non solo a loro ma anche ai componenti della loro famiglia con pesanti limitazioni della libertà personale ad esempio avevano limitato la presenza di parenti e amici all'interno dell'abitazione l'utilizzo della tv l'entrata e l'uscita di casa negli orari in cui solitamente usciva lo stalk fino ad essere costretti a trasferirsi altrove comprendete bene che è veramente un cambio di vita e l'analogia con gli atti persecutori di cui abbiamo sempre discusso posti in essere da un uomo nei confronti di una donna ci sono tutti ci sono tutti ci sono tutti ma concludo se per un velocemente come difendersi dallo stalking condominiale perché quando succede che cosa si deve fare come si può correre la vittima di condotte persecutori ha sostanzialmente tre strumenti per mettere fine agli episodi di stalking legali ovviamente il primo è quello ma pensavo a qualcosa no infatti mi hai guardato e allora voi non vedete le faccette che mi fa per fortuna il primo è quello che ha uno scopo meramente distensivo di fidare formalmente il molestatore mediante una raccomandata ricevuta di ritorno o un altro strumento analogo che offra una prova certa della ricezione della diffida da reiterare le condotte persecutori e intanto lo mettete per iscritto e lo diffidate il secondo è quello di rivolgersi al questore il quale se ne ravviserà come nel caso dei rapporti uomo-donna i presupposti potrà monire verbalmente lo stalker informandolo delle conseguenze di un'eventuale continuazione delle proprie molesti il terzo è quello di sporgere querela dando così la via ad un procedimento penale nei confronti del persecutore quanto alla prova delle condotte persecutori la Cassazione nel 2016 sancito che l'imputato può essere dichiarato colpevole e quindi condannato anche solo in forza delle dichiarazioni della persona offesa del reato una volta che il giudice ha però verificato la credibilità soggettiva e l'attenibilità del suo racconto valgono un po' le stesse regole che ci sono per gli atti persecutori quando c'è stato di mezzo una relazione o comunque uomo-donna è però necessario attenzione anche dimostrare che gli atti persecutori subiti hanno ingenerato nella vittima in via alternativa il perdurante stato di ansia va alla stessa regola che già decidevamo e paura e fondato timore per l'inclumità proprio di un proprio congiunto di un familiare o infine una modificazione in peggio delle proprie abitudini di vita un po' questo in sintesi lo stalking condominiale senza pretesa di esaustività il mio scopo è sempre quello di dare dell'indicazione perché magari tanti non sapevano che ci fosse anche lo stalking condominiale e che dallo stalking condominiale possono comunque derivare delle conseguenze l'ansia lo stress ma a questo punto può anche scatenare una lite furibonda che può portare delle conseguenze molto più negative ecco fermiamoci prima che succeda e procedete magari seguendo i consigli di un buon legale che si occupa di questa materia mi stavo chiedendo se c'è a quest'ora in quest'ora sei incredibile a dopo abbiamo il tempo dei saluti cara Fulvia Fois ebbene sì siamo giunti al termine anche per questa prima puntata dell'anno che ci ha visto assieme per sentirti per sentirci per sentirti parlare dei problemi che ci sono e come affrontarli riguardo allo stalking condominiale assolutamente sicuramente una puntata interessante simpatica perché sono di quelle cosine e sai che le senti spesso in giro di parlare esiste lo stalk economiale intanto chiariamo che esiste e merita di essere tutelato quando si verifica magari occorre magari sapere prima di avere un diritto da tutelare bisogna informarsi anche un semplice consiglio può aiutare sì assolutamente sì allora noi vi auguriamo un felicissimo weekend insieme alle vostre famiglie buon stalking a tutti quanti no assolutamente moderate gli atti di aggressione assolutamente e ci sentiamo sabato prossima settimana l'augurio di buon weekend con VivFM ciao